Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa del centro sportivo GB Fabri. Oggi siamo qui per presentare il nuovo allenatore della SPA Leonardo Colucci. Insieme a lui sono presenti in sala stampa il direttore generale biancazzurro Corrado di Taranto e il direttore dell'area tecnica Filippo Fusco. Lascio subito la parola al direttore generale per un'introduzione. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. E' doveroso ringraziare, prima di presentare il nuovo mister, il mister Di Carlo, per la professionalità, per l'umanità e per il lavoro svolto. Di questo lo ringrazio a nome della società, a nome di tutto lo staff, anche dei dipendenti, per il lavoro che ha fatto. Oggi siamo qua per presentare il mister Colucci. Siamo particolarmente contenti di averlo con noi e che il mister abbia accettato con entusiasmo la SPAL. Insieme al direttore dell'area tecnica Filippo Fusco abbiamo scelto l'allenatore, la persona e siamo convinti che col suo entusiasmo e con la sua voglia di lavorare darà quella spinta che in questo momento qua forse ci mancava e ci servirà per il futuro. Quindi io do un grande benvenuto a nome della società, a nome del presidente, al mister e lascio a voi la parola per domande. Grazie direttore, partiamo pure con le domande. Buongiorno, Alberto Menassi, Radio Dolce Vita. La prima domanda naturalmente è per il direttore Fusco e le chiederei come avete individuato la figura di mister Colucci e perché è stata fatta questa scelta. Cambiare l'allenatore è sempre una cosa difficile, no? Poi soprattutto quando si ha a che fare con una persona come Di Carlo che aveva accettato questo incarico con grande entusiasmo, con grande voglia e sicuramente ha contribuito tanto a creare soprattutto il ritiro, un ambiente giusto per lavorare. Però il nostro ruolo a volte è mio, quello di Corrado, è un ruolo ingrato, no? E quindi abbiamo delle forti responsabilità. Cambiare l'allenatore è una sconfitta soprattutto per il responsabile della tecnica perché l'allenatore l'avevo individuato io e io sono stato vicino per questi tre mesi. Ovvero, questa scelta è stata perché abbiamo delle responsabilità e vedevamo una situazione difficile per la quale poter uscire e non per convenienza perché a volte si dice più facile cambiare l'allenatore, no? Perché si vedeva una situazione che dal nostro punto di vista a livello tecnico stiamo andando in un impasse. Abbiamo scelto Leo perché è un lavoratore, è entusiasmo, conosce la categoria, ha fatto bene, ha dato sempre un'impronta chiara alle sue squadre dal punto di vista tattico perché un malato è un appassionato di calcio come lo siamo noi, come lo siamo tutti noi. Quindi sono sicuro che il suo entusiasmo, la sua voglia, le sue conoscenze, le sue competenze possa dare a questa squadra, che secondo me è una squadra di qualità, quel tipo di gioco che ci aspettiamo attraverso il gioco a riparare risultati. Ovviamente l'humus, la base lasciata da Mimmo non deve essere dispersa, è una base fatta di grandi rapporti umani, di grande umanità, di grande coesione. Poi i risultati ci hanno dato torto e quindi a volte si fanno queste scelte che in questo caso non è solo regate ai risultati perché siamo la quinta di campionato ma è una situazione che si stava in un certo senso dal nostro punto di vista andando in una direzione che non era quella guarata. Tutti ci auguriamo di partire in maniera diversa, di fare delle vittorie. Ovviamente il mister Di Caro non è il responsabile, o quantomeno non è il suo responsabile. Prima di lui mi metto io perché le scelte sono state fatte insieme a lui da tutti i punti di vista. Quindi ringrazio comunque Tacopina per la fiducia che ha avuto ancora una volta in me, in Corrado, nelle scelte che abbiamo fatte, nelle decisioni che abbiamo preso perché ancora una volta sono scelte fatte in totale autonomia e di cui ci assumiamo noi, principalmente perché sono scelte tecniche, la responsabilità sia delle sonode dell'allenatore sia della scelta del nuovo allenatore. Di Leo conosco la passione, l'entusiasmo, la competenza, la conoscenza, la voglia di proporre una certa idea di gioco che siccome si sposa con le caratteristiche dei giocatori che abbiamo preso e che fanno parte della rosa della spalla. Grazie. Buongiorno mister, innanzitutto benvenuto a Ferrara e gli auguri naturalmente di fare un ottimo lavoro. Volevo chiederle, ha già incontrato la squadra, naturalmente avete avuto modo anche di fare un allenamento, se non due addirittura, ecco, che ambiente ha trovato e qual è lo spirito con cui affronterà questa impresa che sappiamo tutti un subentro è sempre più difficile che partire dall'inizio del torneo. Intanto mi assoggio ai direttori per quanto riguarda il mister Mimio di Carlo che conosco e quindi so quando poi è difficile un esonero così ed è normale che quando si parla di colpe non è solo, essendo stato un giocatore, non è solo dell'allenatore ma se vogliamo di tutti, anche di giocatori, no? perché poi in campo vanno i giocatori e è logico che pagano. Detto questo, la squadra l'ho trovata bene, è logico che anche i ragazzi hanno sofferto ed è anche normale, ma è sempre anche giusto perché vuol dire che è un'anima. Quindi abbiamo fatto due allenamenti, fermo restando che è una squadra che sta giocando come tutte ogni tre giorni e quindi devi fare anche attenzione. L'allenatore è bravo quando subentra perché non devi fare danni. E quindi, essendo poi questa squadra composta da tanti giovani e quindi bisogna dare certezze. Quindi due situazioni, ma fatte bene. Quindi, al di là dell'aspetto morale, la squadra l'ho trovata bene. È una squadra che si impegna, che dà il massimo. Quindi è logico che poi le dobbiamo tramutare tutto ciò che fai durante la settimana, la domenica, ma in questo caso il venerdì, il sabato, il lunedì. Quindi, non si sa, si gioca ogni due ore. Era questa la domanda. Marcello Ferroni, stense.com. Benvenuto, mister. Volevo chiederle, ecco, un po', si può parlare di qual è la sua idea di gioco e se, ovviamente, pensa che comunque la rosa che ha a disposizione qui a Ferrara sia adatta, appunto, si sposi bene con questa sua idea di gioco o se, chiaramente, anche subentrando in corso, quindi una squadra che comunque ha costruito lei, dovrà comunque anche un po' adeguarsi a quelle che sono le caratteristiche della rosa. Grazie. Allora, idea di gioco è la squadra con caratteristiche. dimenticato prima, volevo ringraziare il patron per la fiducia. Datami, ecco, questa è una cosa importante. Quando una proprietà ti dà in mano la squadra e quindi l'intera città, la responsabilità è tanta e quindi la soddisfazione per quanto mi riguarda è tanta. Poi qualcuno può dire, ma viene nella spalla, lo so, ed è per questo che le responsabilità aumentano. e quindi l'identità della squadra, il modulo, così io sono un allenatore che si adatta alle caratteristiche tecniche dei giocatori. Non posso mettere un giocatore con caratteristiche X in un ruolo Y, quindi metto il giocatore davanti all'allenatore. sulla squadra alla costruzione o meno bisogna essere bravi, come dicevo prima, quantomeno all'inizio non fa, passatemi questo termine, danni e quindi devalutare, osservare. C'è una squadra di tanti giovani, bravi, importanti e quindi il giovane bisogna sostenerlo perché in Italia non giocano i giovani però al primo errore non li vogliamo far giocare e quindi perché credo, avendo fatto settore giovanile, che l'errore è parte dell'apprendimento e quindi bisogna dare tempo a questi giovani, anche se il presente non esiste perché è già passato, quindi bisogna fare le cose e fatte bene. E quindi sono io che mi devo comunque adeguare a quelle che sono le caratteristiche della squadra. Il sistema di gioco poi, lo sappiamo, è statico, poi ci sono situazioni, puoi costruire a tre, a quattro, difendere in un modo o nell'altro. E' importante avere dei chiari, sia quando è la palla che quando non è la palla. Riconoscersi in campo, avere il vantaggio dell'idea. Prego. Sono Ferrara, benvenuto mister, anche da parte mia. Buongiorno Francesco. Perché la SPAL, nonostante in questo momento ci sia un certo tipo di pressione, ecco l'ambiente è un po'... Anche ad allenare la terza categoria c'è la pressione. Non c'è una piazza dove non c'è la pressione. Perché in Italia se vuole solo il risultato e basta. No, è vero, questa cosa qua, non interessa come vinci il risultato. Dobbiamo cambiare anche questa cultura a livello proprio nazionale, italiano. E quindi la pressione. Ma guarda che la pressione c'era per tutto. E quindi... La SPAL, la conosco la SPAL. E quindi so dove sono. So la storia della SPAL. A maggior ragione, no? Il fatto di stare dentro al progetto mi intriga. Poi bisogna vincere. Lo so. E quindi... La SPAL. Io quest'estate ho avuto tre richieste nel girone C. E quindi per i miei problemi personali, non di salute, ti ho posto ancora bene, così non ci sono andato. Quindi allenovo per passione, per voglia e per missione. E una delle ultime esperienze in cui è subentrato è stata al Picerno dove ha conquistato comunque un risultato storico per il club. E questa rivoluzione non è passata da... Cioè questo risultato non è passato da una rivoluzione tattica ma da un lavoro mentale, una crescita comunque tecnica. Ecco, è la stessa cosa che cercherà di fare a Ferrara o qui serve anche altro? No, cerca... Bisogna lavorare. Forte. Bisogna lavorare sui particolari, sulle sfumature. E quindi... Per andare forte, ecco quello là. A me non mi interessa il giocatore che sbaglia, ma mi dà noia a colui che si ferma. E quindi... cercherò di fare quello. Buongiorno, Mauro Malagutti del Resto del Carriere. Salve, buongiorno. Una domanda sia per il direttore Fusco che per il mister Colucci. Adesso abbiamo un po', diciamo così, sorvolato per massimi, per grandi generi, i vari punti, ma volevo chiedere al direttore esattamente quel qualche cosa che vedevate che non funzionava e che non mi piaceva tecnicamente, che cos'è. E invece a Colucci volevo chiedere, d'accordo, i moduli non contano, però questa è una spalca che ha giocatori di presunta qualità offensiva importante come Siligardi, Maistran, Tenucci e Dalmonte e altri e quindi dobbiamo supporre che di partenza si andrà un po' sul 4-3 o comunque su un altro modulo che valorizzi questi giocatori offensivi perché come ha detto il direttore ritiene di aver costruito una squadra di qualità e voleva qualcuno che le consentisse di esprimere questa qualità. Ecco, grazie. Buongiorno a tema è chiaro che se io faccio il paragone dal primo tempo con la Vispesero arrivando alla partita con la Canatese purtroppo a livello di gioco non ho visto una crescita abbiamo visto una situazione che per una serie di ragioni che analizzeremo che abbiamo analizzato anche con mister Di Carlo che andava in regressione le ragioni le abbiamo analizzate all'interno dello spogliatoio le abbiamo analizzate io con Emanuele Righi e con Corrado Di Taranto ovviamente per farci le domande perché per prima di prendere decisioni così forti bisogna farci le domande che ci siamo fatti costantemente rispetto alla scelta è una squadra secondo me di qualità una squadra di qualità ha bisogno di giocare in un certo modo ovviamente con Di Carlo ci siamo riusciti a tratti perché ci siamo riusciti in alcuni momenti l'abbiamo fatto non l'abbiamo fatto con una certa costanza e questo l'abbiamo pagato anche in termini dei risultati ecco riteniamo che veramente sono in confronto con tanti allenatori perché devo essere sincero tanti allenatori avevano l'ambizione e hanno mostrato disponibilità per venire a dare la spalla la nostra scelta su Colucci è stata decisa è stata la prima scelta non è in modo di dire perché è così e lui lo sa ovviamente io e Corrado siamo confrontati con Emanuele anche con altri allenatori se alla fine se abbiamo deciso di puntare su Leonardo è perché crediamo della sua conoscenza nei giocatori della spalla nella categoria nelle caratteristiche dei giocatori che si sposano con uno che comunque facendo un percorso nel settore giovanile tende a lavorare a migliorare il giocatore di qualità e il giocatore giovane perché questi sono un patrimonio della spalla quindi riuscire a trovare al di là del modulo è una domanda alla quale risponderà l'allenatore quello che sia fondamentale quel tipo di mentalità che può dare a una squadra e la mia vita è valorizzare una squadra che ha comunque giocatori di talento alcuni più avanti con l'età alcuni più giovani che deve cercare il risultato attraverso un certo approccio alla gara in una categoria difficile ma comunque in questo girone ci sono tante squadre che hanno elevati valori tecnici quindi il riferimento al girone C è un tipo di calcio magari diverso rispetto a quello che si può proporre nel girone B specialmente quest'anno dove il livello tecnico e basta vedere le ultime partite si è notevolmente alzato quindi riuscire a rispondere alle sollecitazioni del campionato con una proposta di gioco che valorizza i giocatori tecnici secondo noi era una priorità e quindi ci siamo incrociati a Bologna io conosco come conoscono 30 anni che sono in questo ambiente quindi i giocatori ne conosco centinaia lo ricordo quando giocava ci siamo confrontati a Bologna lo allenava la primavera ma è stato prima che quando arrivo io l'ho trovato che allenava già un percorso lungo dall'anno 17 gli allievi nazionali fino alla primavera quindi quell'anno siamo stati insieme c'era anche il presidente Tacopina che quindi lo ricorda in particolare l'attenzione ricorda una partita con la Juventus Bologna primavera Juventus primavera che vinse il Bologna di Leo e Tacopina era sugli spalti e esultò per questa vittoria importante e di prestigio perché comunque l'attenzione poi è chiaro che la mia attenzione era prevalentemente alla prima squadra però è normale che un direttore sportivo della tecnica debba avere anche un'attenzione in particolare al settore giovanile e soprattutto alla squadra primavera quindi c'era un confronto ma chiaramente il suo confronto principale era corresponsabile del settore giovanile quindi ci siamo incrociati ma di fatto non abbiamo mai lavorato insieme in una prima squadra ecco Leo a te Allora sul sistema di gioco è vero quando si parla di numeri e quant'altro è l'interpretazione che si dà tante volte si gioca con 3-4 punti e si ha un'occasione da gol giochi col falso 9 e hai 8 occasioni da gol senza punte quindi è l'interpretazione che dà non è tante quante punte metti in campo ma è come ci arrivi poi gli ultimi sappiamo tutti che gli ultimi 20-22 metri l'allenatore bravo ti fa arrivare là e poi c'è la qualità del giocatore che amplifica il lavoro dell'allenatore quindi come ho detto prima metterò i giocatori al posto giusto dove possono dare il 110% devo sfruttare le loro caratteristiche questo sì prego buongiorno sono Alessandro Landini dello Spallino benvenuto a Mister buongiorno Alessandro l'ossessione del risultato che abbiamo in Italia che lei ha menzionato prima fa sì che poi il tifoso medio vada su internet cerchi Leonardo Colucci va a vedere i risultati degli anni prima e dice ma sto qua non ha combinato niente allora sappiamo benissimo che in ogni stagione c'è tanto lavoro tanto impegno tanti imprevisti e tutto quanto quello che le chiedo io è in tutte queste esperienze che ha avuto di diversa natura cosa si porta dietro cosa ha imparato di importante allora bella le domande si dice sono tutte intelligenti no? e no e le risposte che può fare allora in Italia bisogna capire cosa significa vincere perché sappiamo che se arrivi secondo sei un fallito ma se l'obiettivo era quella la macchina di portarla a 120 all'ora e fa 110 io in quanto io allenatore ho vinto perché ho migliorato i giocatori perché sono andato i più forti poi vince uno io sento sempre ogni inizio campionato su 60 squadre della Lega Pro 3-4 presidenti per squadra così entro due anni entro tre anni così voglio arrivare in Serie A e niente si fa fatica o dobbiamo cambiare la riforma e che così e quindi se non dovesse arrivare primo secondo o terzo intendo come allenatore non è che perché si è fallito e questa è una cosa importante in passato per me degli errori li ho fatte questi sì qualcuno ha anche voluto questo sì questo sì però quello che ho dato sempre è stato grande passione grande voglia trascinare i ragazzi e come sempre ho detto ai ragazzi che se si vuole essere ricordati per il nome che si ha dietro la maglia dobbiamo giocare per il luogo che abbiamo davanti se noi facciamo questo a Ferrara che riconoscono il giocatore che dà il massimo noi vinciamo sempre al di là del risultato che è importante e quindi è logico che se andiamo ad aprire io la buonanima di Mialovic mi è sempre che disse un allenatore che allena da 7-8 anni se non è stato esonerato 2-3 volte non è un allenatore chi va per mare in barca acqua un'altra cosa che vorrei chiedere di ordine più generale che idea si è fatto su questo girone perché l'ha detto il direttore si è visto il livello quest'anno che è alto ci sono tante contendenti là davanti mi immagino che le aspettative direttore siano quelle di luglio cioè dire fare un campionato in posizioni avanzate di classifica io ho detto tu da protagonista se ricordi la mia protagonista protagonista vuol dire attraverso il gioco da protagonista questo quello che dissi a lui io lo confermo vogliamo fare un campionato da protagonisti sul piano del gioco ovviamente che poi i risultati sono conseguenze di un gioco che si propone quindi da protagonista siamo ancora convinti di poterlo fare e di dare il massimo sì volevo chiedere al mister appunto che idea si è fatto su questo girone sul coefficiente di difficoltà che lo aspetta a maggior ragione visto questo calendario che non è per niente facile sì allora secondo me avevo fatto 4 anni il girone B e quindi la verità è che quest'anno un campionato ci sono tante squadre attrezzate per fare i campionati di vertice rispetto a quando ero a Reggio Pordenone alla Vis che c'erano quelle due tre squadre e sapevi quest'anno ci sono tante squadre attrezzate per fare i campionati di vertice importanti a differenza del girone B che negli ultimi anni e del girone C che ho fatto due anni dove l'anno scorso c'era una squadra che ha ammazzato il campionato e quest'anno è livellato quest'anno ritengo il girone B il campionato più difficile ed è per questo che noi dobbiamo prepararci soprattutto mentalmente ad affrontare questo campionato tosto e difficile perché perché essendo noi la spalla la motivazione alla squadra avversaria viene facile viene facile è estrinseca perché giochi contro la spalla e noi dobbiamo sapere che le squadre avversarie ci aspettano al barco e dobbiamo essere noi coloro che con grande umiltà dobbiamo preparare le partite al 120% al 110% se fa fatica al 120% ce la giochiamo credo di essere non c'è una partita che si vince facile ah si è visto comunque anche in questo inizio no 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 quando qualcuno mi chiede mio figlio papà ma secondo te quella partita gli dico al 98% ti so dire che il risultato c'è l'ultima per quanto mi riguarda vorrei chiedere se ci può illustrare qual è la sua squadra di collaboratori in questa avventura ok il vice allenatore Giuseppe Montanaro che ha lavorato con me sia a Piceno che a Castellammare e il preparatore atletico Raffaele Gagliardo che ha lavorato con me nel settore giovanile del Bologna e poi fino a quando ha fatto il girone B poi lui il girone C nonostante del sud dice si sente un po' più ha dimenticato le origini diciamo prego mister una domanda sulle due partite che aspettano la squadra una immediata praticamente già domani sera in Coppa Italia e un'altra importantissima di campionato con una appunto di quelle squadre che è considerata tra coloro che cercheranno di giocare il campionato per vincerlo ecco lei ha detto prima la prima cosa da fare soprattutto poi con tempi così distretti e non fare danni ecco dove metterà le mani per preparare queste due partite è un discorso mentale ragazzi aiutarli aiutarli anche a sbagliare e di non aver paura quando si ha la palla perché lo so che magari può succedere sbaglio un passaggio che è mugugno e quindi è una gioca serena tanto gli ho detto ai ragazzi ieri che da oggi da ieri in poi la colpa è solo mia anche se loro sbagliano il passaggio la colpa è mia e quindi si sentono un mugugno padassi che c'è un amico che fischia a uno che sta in tribuna e dice stasera cosa mangiamo e loro pensano che sia per loro ma non è così e quindi quello ecco il mio timore è che loro entrano in campo contratti non lo devono fare devono giocare sereni e giocare la partita come diceva un vecchio allenatore e non farsi giocare dalla partita copirati della buonanima di Mazzona avete altre domande? Francesco Don di Nuova Ferrara buongiorno Francesco la durata del contratto mi incuriosiva per capire se bisogna vincere subito grazie rispondo io perché proprio la disponibilità che abbiamo avuto dal mister è stata quella di non guardare il contratto abbiamo chiaramente fatto durare il contratto fino al 30 giugno ma abbiamo visto questa disponibilità anche nella firma del contratto che è stata unica nel suo genere e per questo lo ringrazio quindi 30 giugno 30 giugno 2024 4 4 4 5 4 Grazie a tutti.